Giorgia Meloni, attraverso i suoi profili social, ha fatto il punto della situazione sui risultati raggiunti dal suo governo nell'arco di un paio di settimane. La Meloni ha parlato anche delle risorse dello Stato che non saranno più destinate ai bonus ma ad un altro fine che ha illustrato ampiamente. Il governo ha giurato il 22 ottobre e, in meno di due settimane, ha raggiunto obiettivi importanti, ha sottolineato Giorgia Meloni. Prima di schierarsi contro i bonus, ai quali il governo precedente ci ha abituati, la Meloni ha menzionato gli obiettivi raggiunti sinora, dicendo, liberare oltre 30 miliardi di euro, 9,1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per il 2023, per mettere in sicurezza famiglie e imprese dal caro bollette e compiere il primo passo sul fronte della sicurezza energetica nazionale. Il resoconto di Giorgia Meloni non si è concluso qui, in quanto ha voluto spiegare come si procederà, d'ora in poi, in relazione ai famosi bonus. Il nuovo governo, infatti, introdurrà dei cambiamenti radicali rispetto al passato, impiegando le risorse statali in modo innovativo. Inoltre, c'è un'altra importante novità annunciata dalla Meloni. Giorgia Meloni, ecco le novità del nuovo governo sulla questione dei bonus Giorgia Meloni, attraverso i social, ha spiegato quale politica seguirà il suo governo in merito ai bonus. In pratica, le risorse dello Stato verranno impiegate per abbassare i costi dell'energia. Concentreremo le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all'aumento del costo dell'energia, senza disperdere risorse in bonus inutili, ha dichiarato la Meloni, sottolineando un vistoso cambio di rotta rispetto al passato. Inoltre, c'è una novità non da poco, introdotta dal governo Meloni, che ha approvato un provvedimento diretto ad aumentare la produzione di gas nazionale, in modo tale che il nostro paese non si trovi più in difficoltà. Non solo, il governo ha approvato un provvedimento per implementare la produzione di gas nazionale, a patto che venga destinato a prezzi accessibili alle aziende energivore italiane, ha chiarito Giorgia Meloni. Dunque, la condizione posta da Giorgia Meloni è ben chiara, consentire alle aziende l'approvvigionamento di gas a prezzo contenuto, in seguito all'aumento della produzione di esso nel nostro paese, senza necessità di grandi importazioni. Leggi anche, Antonella Fiordelisi, botta e risposta tra Alex Nucetelli, Totti e i legali della Vippona, le nuove dichiarazioni dopo le querele. Grazie per la visione!